La LUNAR INDUSTRY L'azienda leader nella fornitura di energia pulita in tutto il mondo grazie al lavoro duro di persone come te. Papà è un astronauta. Tre anni sono veramente un sacco di tempo. So che sei molto solo lassù, ma sono fiera di te. Mancano due settimane, Sam. Solo due settimane, amico mio. Torno a casa. Pare che ce ne sia uno carico. Esco a prenderlo. D'accordo, Sam. In uscita dal perimetro di lavoro di Seren. L'ho trovato di fuori. Chi è? Voglio sapere chi diavolo è! Forse hai delle allucinazioni. Che sta succedendo? Da dove è arrivato? Perché somiglia a me? Sei stato qui troppo a lungo, ti sei bruciato il cervello. Sono due settimane, due settimane. Non capisco che sta succedendo, sto perdendo la testa. Ho dovuto andare a casa. Lo so. Ho dovuto andare a casa.